E allora amici, ben ritrovati in questo nuovissimo video, come state? Spero bene, siamo qui per un appuntamento immancabile, come ogni anno ormai, siamo giunti all'appuntamento del Black Friday, delle offerte del Black Friday. Black Friday che una volta era solo il venerdì, poi adesso è diventata Cyber Monday, la settimana del Black Friday, insomma, cercano in tutti i modi di farci spendere soldi, di propinarci offerte più o meno valide, più o meno vere. Dico questo perché soprattutto se acquistate su Amazon, che ormai è un po' il sito di riferimento per tante cose, per tanti prodotti, dai prodotti per la casa ai prodotti tech, ovviamente, che sono probabilmente il motore principale, no? Vi dico una cosa, soprattutto su Amazon abbiamo diversi strumenti, utilità, applicazioni come Camel, 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 come tanti altri siti, no? Che vi consentono di vedere per ogni singolo prodotto lo storico dei prezzi e quindi vi rendete conto se veramente quel prodotto, in quel momento, in questo periodo, è veramente in offerta e quindi vale la pena acquistarlo o è una finta offerta e quindi magari lo si trova anche in altri periodi dell'anno a prezzo inferiore. Controllate questo prima di iniziare con la nostra carrellata di prodotti per home studio, studio, sottoscala, sottobosco, come vi dico sempre, garage, cantina, la vostra stanzetta di casa, qualsiasi cosa. Chi sono io per non rifare il video sulle offerte del Black Friday? Come al solito vi lascio anche i miei link sotto, in descrizione, nei commenti di Amazon, li lascio semplicemente perché voi non spendete niente di più. A me Amazon offre un caffè, Amazon è un po' tirchi, Amazon è... qualche volta mi offre anche una birretta. Quindi, insomma, se vi va, senza impegno, potete passare dal mio link di Amazon e mi ringraziate virtualmente con un caffè, ma voi non spendete niente di più. Nonostante ci siano delle novità rispetto all'anno scorso, dei piccoli ingressi e delle piccole uscite, io ho sempre i miei soliti prodotti di fiducia, però andiamo un po' a rinfrescarci le idee che non fa mai male. Allora, io partirei su una cosa importante, perché dobbiamo partire proprio dalla base. Il computer. Allora, il mio consiglio ormai, che purtroppo Apple con l'introduzione del chip M1 ha veramente tagliato fuori tutti. Quindi il mio consiglio in questo Black Friday, che se dovete acquistare un nuovo computer o rinnovare il vostro computer, o magari fare questo fatidico passaggio da Windows a Mac, perché semplicemente l'audio su Mac, ma anche il video, viene gestito in una maniera spaventosa. Su Windows spesso si hanno dei problemi con i driver, con le cose, eccetera, eccetera, quindi ogni tanto. Però questo non significa che Windows va male, ci sono tanti professionisti che lavorano su Windows, che mixano, che registrano su Windows, con delle idee W anche abbastanza interessanti, come Reaper, come Pro Tools, come Cubase. Insomma, le solite, non stiamo qui a ripetere. Se un amico in questo momento viene vicino a me e mi dice, caro Ubaldo, io ho bisogno di fare la mia postazione per il mio home studio di casa, o comunque devo comprarmi un nuovo PC, cosa mi consigli? Io ti consiglio 100%, proprio non c'è proprio storia, ti consiglio un Mac Mini M1. Quindi nonostante questo prodotto sia con il chip M1, quindi quello che è uscito l'anno scorso, perché adesso sono usciti nuovi M1 Pro, M1 Max, e purtroppo non è stato aggiornato il Mac Mini, quindi è rimasto questo qui M1 classico, che già è, ragazzi, è un'innovazione assurda. Ci aggiungete un monitor, tastiere e mouse, che magari già li avete perché li traslocate appunto dalla postazione precedente, dove magari avevate Windows o magari un vecchio Mac Mini, Intel, eccetera, eccetera. Certo che questa versione con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, più che altro per quanto riguarda la memoria SSD, è un po' poco. Se avete la possibilità vi consiglio di prendere almeno la versione da 5,12. Se avete ancora di più la possibilità prendete anche 16 GB di RAM, ma qui già stiamo poi parlando di prezzi superiori. A questo punto poi vado ovviamente a consigliare assolutamente il MacBook Pro, quello con l'M1 Max o l'M1 Pro, anche la versione da 14 pollici, con l'M1 Pro, 16 GB di RAM e 512 SSD. Quindi questa ve la consiglio assolutamente perché veramente poi siete a posto per non so quanto tempo, cioè perché sono macchine veramente fantastiche. Allora, quest'anno cercherò di consigliarvi anche qualche prodotto super economico, ma sempre nell'ottica che deve essere comunque un prodotto decente. A livello di Behringer come scheda audio Behringer vi consiglio solo questa, la OMC204HD, è una buona scheda, 79€ ci sta come prezzo. Come vedete avete la possibilità di due canali in ingresso, nei due canali in ingresso XLR potete anche inserire dei jack da 6,3, quindi insomma è abbastanza interessante come scheda. Poi ha i preamplificatori Midas che usa Behringer, che sono dei buoni preamplificatori. Come vedete avete anche la possibilità di far diventare questa scheda anche un piccolo mixer appunto per il monitor, perché vedete anche il pomello per il main out e poi il jack cuffie. Anche la 48V per i microfoni a condensatore, insomma è una scheda da 79€, però sicuramente posso dirvi migliore rispetto a tutte le altre che sono più o meno su questa fascia di prezzo. Però stiamo parlando sempre di una scheda proprio per chi dice io devo fare giusto l'essenziale, quindi qualche preproduzione in casa, devo giochicchiare un po', ok, vi consiglio questa. Il mio grande classico che consiglio veramente veramente a tutti è praticamente la Focusrite 2i2 Scarlett. Ve la consiglio tantissimo, è la scheda audio migliore che potete acquistare per avere un qualcosa, non dico che suona chissà che diciamo a livello di qualità, però è un po' di riferimento, no? È una scheda audio di riferimento, insomma se dovete fare ecco un upgrade magari da una scheda audio più economica e dovete prendere una via di mezzo, io vi consiglio assolutamente la Focusrite 2i2. Ve lo dico io ma in realtà è veramente, la trovate un po' ovunque in tutti i setup home studio dove vi consigliano appunto i vari setup home studio perché è super super valida, i driver sono ottimi, anche su Windows gira molto molto bene, su Mac che potete fare, insomma va tranquilla proprio. Altrimenti mi sento di consigliarvi la mia solita scheda che vi ho consigliato anche l'anno scorso, cioè Audient. Audient ID14 però in versione MK2 che è uscita pochi mesi fa, sempre più o meno la stessa categoria delle schede precedenti, però con una qualità superiore, veramente superiore rispetto già a Focusrite e a Benninger. Più o meno a livello di collegamenti, a livello di ingressi sono più o meno uguali, cambia poco e niente. Ho una piccola new entry perché ho visto che è venduto su molti store online, insomma è un prodotto tra i più venduti. Questo mixerino della Yamaha si chiama AG03 e praticamente è ad un singolo canale, però avete anche la possibilità di collegare qui un jack per esempio una chitarra. Avete un sacco di connessioni, ecco mi ha stupito sto fatto che sto coso c'ha un canale però c'ha un sacco di connessioni, potete fare veramente un sacco di cose, uscite cuffie, monitor out, left and right in RCA, il foot switch, l'ingresso line, l'ingresso chitarra, l'ingresso mono. Oltretutto avete un compressore, un EQ, degli effetti che potete appunto inserire, potete fare un sacco di cosine interessanti. Ovviamente USB, questo ve lo consiglio di più per chi fa streaming, per chi fa podcast, per chi fa cose comunque online, anche per registrarsi a livello musicale, però è più consigliato secondo me per queste cose qui di streaming eccetera. Come sapete io sono un grande fan perché il prodotto è costoso ma vi consente di lavorare con grande tranquillità, con uno standard qualitativo che magari non è eccellente, però ormai è diventato uno standard perché piace, perché appunto ste schede si vendono, cioè le UAD. So che quest'anno sono uscite queste UAD Volt 276. 76 perché? Perché c'è un riferimento all'1176, il famoso compressore, no? Penso che voi siete a conoscenza. Sì, sono belle da vedere perché c'è sto legnetto che simula un po' una vecchia console eccetera eccetera, sempre i due famosi ingressi, connessioni che comunque sono abbastanza accettabili, però la cosa che contraddistingue ovviamente questa scheda è che qua sopra qui c'è un tastino vintage che appunto ci dà saturazione e ci schiarisce un po' la qualità. E in più c'è la possibilità di attivare il compressore che è poi l'emulazione dell'1176. Sinceramente è carina, però sicuramente non vi consente poi di accedere ai plug-in della UAD perché lì poi serve un Apollo con il processore. Sono un po' incerto su questa scheda e quindi ve la faccio vedere ma onestamente non ve la consiglio e c'è anche ecco questa possibilità di avere una UAD ad un prezzo sicuramente molto più accessibile però onestamente non mi ha convinto più di tanto. Quella che mi convince sempre ogni giorno di più è sicuramente l'Apollo. L'Apollo Twin, avete la possibilità quindi di far girare i plug-in. In questo caso vi consiglio di prendere almeno una Duo, quindi con due processori perché altrimenti con la Solo veramente non ci gira niente. Io ne ho una qui sopra qui e mi trovo una meraviglia. Ormai è diventata uno standard, anche se vi ripeto non ha una qualità sonora come può essere magari una RME che non vi faccio nemmeno vedere perché ovviamente in questo caso chi conosce RME vuol dire che già conosce una certa qualità di audio e quindi sicuramente non sta guardando questo video, non sta ascoltando me. Purtroppo o per fortuna, questo non lo so, è una delle schede più vendute e la trovate praticamente in tutti gli home studio ma non solo gli home studio anche gli studi professionali. Sopra ci registrano tutti gli artisti pop che ascoltiamo tutti i giorni, pop e non pop. Ormai è diventata uno standard a livello internazionale ma non per la qualità in sé dei preamplificatori, la qualità in sé in generale ma per la possibilità poi di utilizzare i plug-in della UAD perché voi come sapete bene i plug-in della UAD girano soltanto sulle interfacce della UAD. Non vi devo raccontare la storia e la qualità dei plug-in UAD dai compressori, dai 1176, LA2A eccetera 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 i riverberi, insomma tutte queste cose qui che sono indispensabili appunto secondo me oggi sono diventati indispensabili nei mix più importanti che ascoltiamo e ci sono veramente in tanti mix quindi vengono utilizzati tantissimo perché comunque la qualità è molto molto alta e anche i prezzi sono molto molto alti purtroppo. Apollo UAD mi raccomando io ve la consiglio se siete su Mac qualche volta mi hanno anche contattato, mi hanno anche scritto qui nei commenti su YouTube qualcuno che ha comprato la UAD e ha avuto tanti problemi di configurazione su Windows l'Apollo funziona una meraviglia su Mac, su Windows ha qualche problemino soprattutto i modelli quelli con l'USB 3.1 danno problemi perché vanno solo su alcune schede madri e anche la versione Thunderbolt ha qualche problemino su Windows quindi prima di acquistare la UAD se avete appunto un sistema Windows accertatevi bene sul sito della UAD le varie compatibilità con le varie schede madri, con le varie interfacce Thunderbolt o USB. Andiamo ai microfoni, come vedete il mio microfono preferito e ve lo consiglierò sempre finché ne avrò modo è lo Shure SM58. Ubaldo perché ci stai consigliando un microfono dinamico se dobbiamo registrarci in studio? Perché se siete in un'ottica di home studio quindi con poca insonorizzazione un trattamento acustico arrangiato eccetera eccetera questo microfono è il top in assoluto per evitare tutte quelle riflessioni noiose, tutti quei fastidi, quei disturbi sonori ovviamente in una stanza non trattata acusticamente. E vi dico di più in questo microfono hanno registrato un sacco di artisti che poi hanno utilizzato la traccia dello Shure SM58 che è finita poi nel mix finale nel disco. Ovviamente poi questo SM58 passa poi attraverso magari un mixer, un SSL con un bel preamplificatore, un bel preamp che ovviamente gli dà poi lustro e insomma qualità. SM58 lo consiglio anche perché è 99 euro, non lo si trova scontato, questo è un prezzo più o meno standard però è veramente tanta roba. Se volete un'imitazione del SM58 perché ovviamente avete grandi difficoltà economiche, l'unica cosa che mi sento di consigliarvi è questo Behringer XM8500 e 20 euro di paura, è un'imitazione dell'SM58, ce ne sono tantissime dell'SM58 a livello di imitazioni, quindi una vale l'altra. Se dovete spendere più di 50 euro allora comprate direttamente l'originale e non ve ne pentirete perché questo è un microfono che poi vi sotterrerà assolutamente, devo ripetere sempre questa battuta perché veramente è vero, perché a meno che non lo sbattete in faccia al muro è un microfono che vi durerà praticamente tutta la vita. Se dovete fare un upgrade vi consiglio il Snyzer però l'E945, se volete qualcosa di più particolare anche a livello di colore, del suono eccetera eccetera, vi consiglio l'E945. Io sono un grande estimatore, un grande amante dei microfoni Snyzer, quando mi è capitato in passato di fare qualche live dove avevo appunto la possibilità di scegliere il microfono mi sono sempre fatto dare un Snyzer sia wireless sia con il cavo E945 il mio preferito, c'è anche l'E965 che quello è anche a condensatore. Altrimenti, grande classico, andiamo sempre a ripetere però lo ripetiamo, lo ripeto sempre con gioia, lo Shure SM7B che nasce per il broadcast, viene usato per radio, podcast, registrazioni diciamo vocali più che altro di voci però è usato tantissimo 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 negli ultimi anni ma un po' da sempre secondo me anche per le registrazioni appunto dei cantati soprattutto di quei cantati un po' più duri dove c'è bisogno di un microfono un po' più duro molto molto indicato per essere appunto utilizzato in situazioni di ambienti non trattati potete ad esempio tenerlo in mano mentre state registrando e non si sente niente perché ha tutta questa costruzione molto particolare e quindi vi consente veramente di utilizzarlo nei modi più particolari non costa poco ogni tanto va in sconto lo trovate anche a 300 329 ma meno di 300 è difficile trovarlo ve lo dico subito se volete comunque un'alternativa ovviamente meno costosa è il Rode PodMic che però ve lo consiglio soltanto per applicazioni podcast e registrazioni di voci se dovete utilizzarlo in dirette streaming o registrare podcast parlati eccetera eccetera vi consiglio questo SM57 è un altro standard un altro super classico questo qui veramente ci fate tutto ci potete anche registrare la voce volendo perché praticamente sarebbe un SM7B senza tutta quella mega capsula che ha se volete risparmiare quindi non avete il budget dell'SM7B comprate questo filtro che praticamente costa una ventina di euro sorta di capsula con un antivento che appunto vi consente poi di sfruttare l'SM57 come microfono e quindi imitare un po' scimmiottare un po' l'SM7B non ve lo dico ma insomma dovreste già saperlo super microfono che viene usato ormai da una vita su applicazioni come può essere appunto batterie rullanti percussioni strumenti di ogni genere di ogni tipo sbizzarritevi fate quello che vi pare usatelo ovunque perché comunque è un grande grande microfono questi i microfoni sono un po' duretti quindi anche il dinamico anche le 58 e 57 l'SM7B hanno bisogno di tanto volume di solito si usa questa roba qui che è il cloud lifter però costa due piotte quasi due piotte secondo me è anche un po' too much in home studio in caso noi che siamo dei poveracci ci affidiamo al mic booster mic booster già ve ne ho parlato su questo canale ho parlato del CT1 questo qui che però va subito a ruba come vedete adesso non è disponibile ed è disponibile il CM1 che è un po' la stessa cosa solo che costa qualcosina in più rispetto al CT1 ovviamente per farli funzionare dovete dargli la Phantom la 48V mi raccomando non dimenticate questo collegate da un lato il microfono quindi con un cavo XLR da un lato collegate il microfono e dall'altro lato collegate l'altro cavo alla scheda audio o a quello insomma al vostro preamplificatore al mixer o dove vi pare lo scopo ovviamente quale è quello di avere fino a 25 db in più sul vostro microfono dinamico quindi i dinamici che di solito hanno bisogno di più volume per funzionare bene in questo caso se avete magari una scheda audio un po' economica più volume date sulla scheda audio e più rumore di fondo andate ovviamente a portare su quindi per evitare questo rumoraccio di fondo che ci perseguita si mette in mezzo ovviamente alla catena questo mic booster che vi dà più volume e vi consente poi di registrare con dei livelli più bassi sulla vostra scheda audio e quindi avere una qualità audio superiore questo è tutto ci hai parlato solo di dinamici perché non ci parli anche di qualche microfono a condensatore certo ovviamente qualcosa di super economico lo consigliano tutti e chi sono io per non consigliarlo il nv 800 della new wear 26 euro di paura e praticamente è un microfono che tutti tutti ne parlano bene ovviamente per utilizzi super super casalinghi per chi veramente cerca di costruirsi un piccolo home studio ma soltanto per raccogliere provini idee demo dovete assolutamente utilizzare la phantom alimentazione phantom per farlo funzionare bene qui dentro vedete esce un cavetto mini jack non lo collegate al vostro computer col cavetto mini jack perché la vostra scheda audio integrata del computer non riuscirà mai ad avere l'alimentazione corretta per far funzionare bene questo microfono mi ha incuriosito tantissimo e devo dire tantissimo il lewitt spero che si pronunci così lct 440 che è un po' un'imitazione non so se vi ricordate degli akg 414 che sono veramente anche quelli un grande standard li vedo spesso ad esempio usati in coppia quindi in formato stereo per registrazioni per riprese stereo li vedo spesso anche come overhead sulla batteria e quindi essenzialmente insomma anche per il prezzo secondo me interessante io non l'ho provato però ne parlano tanto bene quindi ho detto lo inserisco in questo video perché potrebbe essere comunque interessante la lewitt fa anche l'altra versione che costa di meno il 240 che sarebbe l'imitazione l'imitazione l'ispirazione diciamo così del c 214 diciamo un po 240 ve lo cerco subito eccolo qua pensate che io con il c 214 della kg ci ho registrato il mio primo disco e per quello che può interessarvi ovviamente però pensate che io l'ho utilizzato tantissimo praticamente ho iniziato la mia tra virgolette carriera musicale con la kg c 214 e devo dire che all'apparenza ovviamente con il senno di poi vi dirò che non era un gran microfono non aveva un grande suono un grande colore però poi sapendolo poi lavorare bene in fase di mix con la giusta equalizzazione giusto compressore i giusti effetti eccetera eccetera è uscito fuori un buon risultato e poi io l'ho utilizzato veramente tantissimo poi subito dopo sono passato al neumann certo la mia vita è cambiata notevolmente non parlo di altri microfoni perché potrei elencarvi che ne so gli audio tecnica che anche sono abbastanza buoni io non sono un grande amante dei rode per quanto riguarda i microfoni a condensatore non mi sono mai piaciuti devo dire proprio la verità altrimenti ve l'ho anche consigliato l'anno scorso l'aston origin un grande classico anche quello poi il mio microfono di riferimento che quest'anno però vi consiglio in versione da studio quindi con lo studio set con il ragnetto perché non sembra ma il ragnetto fa una grande grande differenza clm 102 il mio vecchio microfono perché io ormai sono passato ormai da qualche mese al 103 che è tutta un'altra storia quindi ve lo dico subito se avete il budget per affrontare la spesa del 103 fatelo non acquistate il 102 certo c'è una bella differenza di prezzo però fidatevi è proprio un'altra storia il 103 ha una capsula che si ispira ovviamente all'u87 ma non è l'u87 perché l'u87 costa 2000 euro e passa quindi sono due bellissimi microfoni io col 102 ci ho fatto un altro pezzo della mia storia musicale ci ho registrato fino agli ultimissimi singoli forse fino al penultimo singolo il 102 ho notato che è un po più scuretta rispetto al 103 il 103 ha proprio una una voce brillante bella come piace a me pop pop assolutamente sono due microfoni per fare pop assolutamente vi conviene acquistarli da subito col ragnetto perché poi solo il ragnetto vi costa due trecento euro quindi in ogni caso trovate anche un confronto sul mio canale trovate il video dove ho confrontato il 102 contro il 103 questi due microfoni vi consiglio soltanto se avete una stanza acusticamente trattata c'è anche chi ha bisogno di qualche microfono wireless va bene road filmmaker kit ve lo consiglio tutta la vita ma semplicemente perché ha la possibilità di mettere le batterie stilo è un po ingombrante però funziona molto molto bene ed alterno tantissimo questo rode con un altro prodotto che ho anche testato ho fatto anche la recensione la trovate sul canale il moman t1 ragazzi 100 euro di paura vi dico la verità sembra una cinesata ma funziona veramente bene altrimenti wireless go della road io non li amo i wireless go della road perché non hanno poi la possibilità di cambiare la batteria qui la batteria integrata e quindi quando si va ad usurare la batteria purtroppo dovete tra virgolette buttarli o comunque mandarli in assistenza per farvi cambiare la batteria non so poi insomma quanto mi può appunto essere conveniente sono comodi sono comodi questo lo bisogna dirlo sono molto comodi perché sono piccolini ci fate veramente tante ore e insomma li utilizzano veramente in tante ormai anche questo è diventato un altro standard in ambito broadcast in ambito video youtuber streaming eccetera eccetera quindi il mio microfono preferito wireless però è anche too much secondo me qui si parla di utilizzi i professionali proprio in campo professionale dove c'è budget dove ci sono i soldini sennheiser g4 e v122 in questo caso i lavalier wireless potete anche poi acquistare il kit con il gelato con il con il radio microfono sono 600 euro di paura io l'ho fatto acquistare un mio amico e consiglio sempre questi sennheiser a chi ha bisogno veramente di tantissima affidabilità molto velocemente un paio di casse che mi hanno colpito quest'anno perché ho fatto anche la recensione e sono diventate le mie nuove casse che ho a casa praticamente nella mia postazione casalinga i k multimedia e loud micro monitor mi sono piaciute tantissimo sono super portatile ecco per chi ha bisogno di una cassa portatile per spostarsi spesso con lo studio eccetera eccetera tanta roba andatevi a vedere la mia recensione per chi non ha magari spazio per mettere dei monitor più grandi o per appunto chi non ha la possibilità di appunto avere una stanza acustivamente trattata e questa qui è la soluzione probabilmente definitiva in questo momento altrimenti quello che vi vado sempre a consigliare perché un po il mio setup che ormai da diversi anni sono le m audio bx 5 di 35 pollici 100 watt paura paura pura sembra una cinesata ma non lo è perché queste casse sono di grande riferimento secondo me per ascoltare le basse per confrontare un po i mix perché non sono casse di alta qualità non sono casse super brillanti da abbinare a queste sicuramente potete abbinare come fa come ho fatto io e come poi il mio setup da diverso tempo le hs7 della yamaha che sono un po anche queste un riferimento un po in tutti gli studi sono molto indicate per le per mixare bene le voci sentite bene un po anche le medio alte certo sono molto brillanti e però non vi danno tante basse quindi in questo caso per questo abbinare secondo me la bx 5 ha senso perché sono un po più indicate sui bassi si sentono un po di più i bassi rispetto alle hs7 altrimenti la mia cassa come sempre definitiva che un giorno forse vedrò ma non lo so non è detto è la dynaudio bm 5 mark 3 sempre da 5 pollici però questa è una veramente una bella cassa che state cercando una cassa definitiva un paio di casse da mettere in studio definitivamente questa cassa qui me ne parlano sempre molto bene e spero di provarla un giorno le focal alfa 65 e ve l'ho consigliata anche l'anno scorso semplicemente perché hanno le riflessioni frontali quindi non avete bisogno di una stanza eccessivamente trattata costitivamente quindi riuscite anche a sentire abbastanza bene certo è una bella spesa però sono delle belle casse grande ingresso sono le cali e le p6 veramente ne ho visti su tanti video di vari youtuber anche italiani che ne parlano davvero molto molto bene di queste cali ma un po in generale un po di tutta la fascia di prodotti cali perché sono molto molto economici e dicono che suonano veramente da paura che ne hanno vendute davvero una tuonata in quest'annata devo dire la verità e quindi insomma mi sento di consigliarle magari quando tornano disponibili se volete farci un pensierino fatelo pure monitor station per controllare le casse questa è la mia monitor station che ho qui sulla mia scrivania la presonus per semplicemente perché a tutti gli ingressi e tutte le uscite è fenomenale ho fatto anche qui un video andate a pescarlo sul mio canale la insomma la recensione del prodotto qualcosa di più accessivo ed è più economico ma comunque standard è il make big knob che comunque non è che costa tanto di meno c'è anche la versione quella un pochettino più economica in ogni caso andate a vedere voi ci sono anche i behringer che sono più economici anche qui per quanto riguarda insomma i mixer per i monitor da studio alla fine dipende anche da quello che dovete andare a collegare da quante coppie di monitor avete per chiudere cuffie si cuffie super lux ve le consiglio sempre oltretutto le super lux escono anche nel bundle della della focus right gli cambiano ovviamente solo il brand sopra il marchio ma alla fine sono quelle quasi tutti i modelli sono quasi tutti belli onestamente ma la mia cuffia di riferimento è sempre questa l'audio tecnica m50x sarà questa la mia cuffia fino alla fine ce l'ho qua sopra come vedete tanta roba questa ci fate tracking riuscite a farci anche un po di mix nonostante siano delle cuffie chiuse però ecco se avete delle casse non eccessivamente belle quindi gli studio monitor non eccessivamente belli potete alternare il mix in cuffia per sentire belle le basse frequenze e poi le casse monitor da studio per ascoltare un po tutto il resto come sempre vi consiglio l'hd600 se volete una cuffia hi fi per fare mix a 360 gradi costano anche un sacco hanno fatto anche tanta speculazione secondo me su queste cuffie perché adesso costano 400 euro ma in passato si trovavano anche intorno ai 300 insomma non dico sotto i 300 ma intorno ai 300 euro quindi anche qui c'è tanta richiesta di questo prodotto tastiere midi tastiere midi giusto per chiudere quello che vi pare nel senso che tutta la serie m audio va benissimo anche la serie a cai le mini lab dell'arturia vanno benissimo le case station appunto delle maudio sicuramente se avete invece bisogno di una tastiera per replicare appunto una tastiera di un pianoforte quindi con i tasti semi pesati eccetera eccetera vi consiglio in quel caso di andare acquistare un prodotto specifico che magari costa anche un pochettino in più anche la serie che station della m audio ai tasti semi pesati eccetera quindi insomma e allora amici siamo giunti in conclusione di questo video ho finito anche la voce perché ho parlato non so per quanti minuti in ogni caso questi sono i miei consigli su black friday 2021 sicuramente avrò dimenticato qualcosa potete scrivermi nei commenti magari se avete qualche curiosità su qualcosa che magari mi sono dimenticato qualsiasi altra curiosità scrivetemi nei commenti come al solito vi lascio tutti i link in descrizione su amazon dei vari store musical store eccetera eccetera ovviamente io non ho preferenze acquistate dove vi pare se magari trovate il prezzo buono su amazon come vi ho detto anche in principio del video acquistate su amazon altrimenti andate dove volete basta che comunque il risparmio sia effettivo sia vero e quindi attenzione alle false offerte come al solito vi ringrazio per aver visto questo video vi chiedo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto di condividerlo con i vostri amici magari interessati la cosa più importante come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per tutti i video futuri grazie a tutti buon black friday a tutti mi raccomando non spendete tanti soldi ci vediamo al prossimo video ciao